Una folla immensa composta, dato ieri l'ultimo saluto a Maria Sofia e Gaia Tranito, 9 e 7 anni, le due piccole bimbe assassinate martedì scorso dalla madre Giuseppa Savatta in Raptus di Follia, nella loro abitazione di via Passaniti. Due bare bianche, l'una accanto all'altra. Il padre Vincenzo non ha mai allontanato lo sguardo dai due feretri. Per espressa volontà della famiglia, i funerali sono stati celebrati in forma strettamente privata. Nessuna telecamera e nessun scatto fotografico all'interno della cattedrale. Ad ufficiale resequi è stato il vescovo della diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. Accanto a lui c'erano il vicario Foranio, Don Michele Mattina ed altri sacerdoti. In questa messa di gloria presentiamo al Tempio due bambine, che sono due angioletti, come a quel tempo Maria e Giuseppe presentarono il loro bambino, ha detto il vescovo. Maria Sofia e Gaia sono innocenti quanto Gesù e la loro somiglianza a Gesù bambino sta proprio nella loro innocenza, nella loro ingenuità. Quello di Gaia e Maria Sofia è un sangue innocente e custodirà le sorti di Gela. Ho chiesto alla Signore quale senso possa avere questo gesto, ha proseguito. Senso non ce n'è. È il momento in cui è necessario, anche imprecando, di recuperare la relazione con Dio. È a Lui che bisogna credere. Siamo costretti a fare silenzio e ad accettare i tempi di Dio. In questa liturgia il Signore sta parlando a noi, ma il mio cuore ha continuato con la voce rotta dalla commozione e segnato da confusione e rabbia. La nostra città è già sofferente per tante ragioni. Questa ulteriore sofferenza non solo ha dolore, ma piega, umilia. Dall'altare Monsignor Gisana ha tuonato perché ognuno si prenda le responsabilità di questo drammatico avvenimento. Ma non riusciamo a partecipare alle gioie. Pensiamo a quanto sia difficile compartecipare al dolore degli altri. Questi due angioletti ci aiutino a pregare e comprendere la parola di Dio. Poi ha predicato il perdono e è invitato a consolare, sostenere, aiutare e pregare non solo per il papà e i parenti, ma anche per la mamma. Straziante la ricordo alla fine della celebrazione delle maestre dell'Istituto Suor Teresa Valse che Gaia e Maria Sofia frequentavano. Siete state un dono nelle nostre vite, angeli dal cuore tenero. Vi chiediamo scusa per non avervi dato la possibilità di vivere i vostri sogni. Ciao Sofia, che di tanto protettiva con la tua sorella Gaia. Adesso è Gesù a darti il compito più grande, quello di continuare ad avere cura della tua amata sorella. Le due sorelline saranno tumulate nel cimitero monumentale di Capo Soprano.